Allora, l'argomento di oggi è l'hashing. L'hashing è un argomento che riguarda le strutture dati. Le state già utilizzando, strutture dati basate su Hashing, di sicuro, però è interessante capire cosa ci sta sotto. È anche interessante perché poi non è solo una tecnica che si usa per le strutture dati, ma può essere utilizzata anche in altri contesti e questo la rende ancora più interessante. Allora, utilizziamo l'hashing tutte le volte che utilizziamo dizionari oppure array associativi, mappe. Sono tutti nomi alternativi a quello che nel libro è chiamato dizionario. Per cui in Python sono strutture dati native che si definiscono con una coppia di graffe in questo modo e poi si utilizzano come se fossero dei vettori, degli array associativi. Quindi potete scrivere V di 10, dove V è il vostro dizionario, e associare un valore. Chiave valore, questo è il compito dei dizionari. Si può inserire qualunque cosa come chiave, oggetti, stringhe, numeri interi, qualunque cosa va bene. E questo significa che a questo punto questo particolare dizionario ha due chiavi inserite, 10 come numero e 10 come stringa, e possono essere poi utilizzate per andare a leggere il contenuto, come vedete qui. Stessa cosa simile si può utilizzare con gli unordered maps di C++ e di Standard Library del C++. La stessa cosa si può fare con altri linguaggi, come per esempio il Go, per cui si può utilizzare la notazione a parentesi quadre per leggere e scrivere valori. C'è invece in Java il concetto di HashMap, questo è un esempio, qui non ho definito tipi particolari per starci nella slide, e qui in questo caso esistono delle primitive specifiche come put, lookup, etc., get, scusate, per quanto riguarda Java. Può essere che nelle versioni più aggiornate di Java si siano passati a questo tipo di cose, magari non sono aggiornato io, ma poco importa. Questa è la struttura che andiamo a fare. Quindi come brevissimo ripasso, un dizionario è una struttura data utilizzata per memorizzare insiemi dinamici che cambiano nel tempo per inserimento e cancellazione di coppie, chiave, valore. Le coppie sono quelle che, cioè le chiavi sono quelle che ci interessano, perché alla fine noi lavoreremo con le chiavi. Il valore può essere qualunque cosa, ed è un dato satellite, nel senso che una volta che hai trovato la chiave, hai trovato anche il valore che ci hai associato. Nel libro, nelle slide, utilizziamo quest'API, lookup, insert e remove. Le applicazioni sono innumerevoli, per esempio per mantenere informazioni su un grafo in cui i nodi sono dinamici, le tabelle dei simboli di un compilatore, i dizionari di base di Python, come abbiamo detto, eccetera, eccetera. Ora, le implementazioni possibili sono innumerevoli, nel senso che, oltre all'insert, lookup e la remove, voglio pensare anche alla possibilità di implementare una for each, ma questa è semplice, cioè discorrere tutti gli elementi in dizionario, e posso scegliere di utilizzare un array non ordinato, va bene come possibilità, se i dati sono pochi, se non c'è bisogno di cose troppo complicate. La lookup e la remove, se non ho ordinato, costano ODN, la insert, se siete sicuri che quello che inserite non è già presente, costa OD1, basta metterlo in fondo. Se invece l'array, cioè non siete sicuri se l'elemento è presente oppure no, e a ogni chiave è associato un solo valore, quindi dovete andare a sovrascrivere il valore associato a quella chiave, e allora il costo è ODN. Se scegliete un array ordinato, l'unico vantaggio che avete è il logN, ma l'inserimento a questo punto costa sempre N, perché devo spostare tutti gli elementi successivi una volta che inserisco in un certo punto del vettore. Le liste sono praticamente come array non ordinati, quindi i risultati sono simili, e noi abbiamo visto, per implementare i dizionari, questi alberi RB, red black, con un posto che era logN per tutte le operazioni, inserimento, lookup e rimozione, il polizio resta ODN, perché tanto devo scorrere tutti gli elementi, idealmente a me piacerebbe fare qualcosa di meglio, ovvero ottenere un posto che sia costante per tutte le operazioni. La cosa interessante è che si può fare. Si rinuncia a qualcos'altro, e dopo lo vedremo in un blocchettino di slide successive, ovvero l'ordinamento, però è possibile accedere ai dati in tempo costante. Questa implementazione ideale prende il nome di tabelle hash. La parola hash dall'inglese significa spezzettare, sminuzzare, cose di questo genere, e dopo capirete perché. Viene dal francese haché, non so se lo pronuncio bene, praticamente dal concetto di ascia. Quello che vedremo è questo. Noi consideriamo la possibilità che esista un insieme di possibili chiavi che è rappresentato dall'insieme universo U di dimensione U piccolo. Allora, cosa intendo con questo? Se voi fate un dizionario di nomi e cognomi, i nomi e cognomi saranno string, non solo, devono essere anche nomi e cognomi che siano più o meno realistici. Nessuno ha il cognome XYZ. Quindi l'idea è che l'insieme universo è dato dall'insieme di tutti i possibili nomi, time, moltiplicato, tutti i possibili cognomi e tutte le possibili combinazioni fra i due, anche a livello internazionale. Però quello che intendo dire è che l'insieme universo, cosa contiene, è potenzialmente importante. Perché se io so qualcosa sull'insieme universo, poi posso utilizzare queste informazioni per migliorare quello che vedrete dopo. Se invece l'insieme universo è ipergenerico o una stringa, allora so che lì dentro ci può stare di tutto. Se l'insieme universo è numeri di matricola, allora so che questi sono numeri a sei cifre attualmente, eccetera, eccetera, eccetera. L'idea è che l'insieme universo può essere arbitrariamente grande. Io non so quanto potrebbe essere grande l'insieme dei nomi e dei cognomi, potrebbe essere il prodotto cartesiano e dei nomi e dei cognomi, potrebbe essere veramente grande. So di sicuro che l'insieme delle stringhe è sostanzialmente infinito, ok? Io voglio memorizzare questi dati in un vettore di dimensione finita e avere un meccanismo per, dato una chiave, trovare rapidamente la posizione in cui viene memorizzata. Questa tabella viene detta tabella hash. Quindi oggi noi vedremo due aspetti, come organizzare la tabella e come trasformare una stringa, un oggetto, un numero, in un indice all'interno di questa tabella. Quindi da un lato vedremo la tabella, lo vediamo come seconda parte, dall'altra vediamo il concetto di funzione hash. Una funzione hash è una funzione h dall'insieme universo, ovviamente chi scrive funzioni hash generiche per un linguaggio di programmazione utilizza universi arbitrari, ma se sapete qualcosa su un particolare insieme di dati potete essere più efficienti nel realizzare una funzione hash. Quindi da un insieme universo all'insieme degli indici possibili all'interno del vettore, in questo caso compresi tra 0 e m-1. Quindi l'idea è la seguente, voi prendete una coppia chiave-valore, in questo caso, in questo esempio, vedete nomi di famosi informatici, e l'idea è che prendete questa chiave e la trasformate in qualche modo, che per me può anche essere una black box, una yellow box in questo caso, che mi trasforma la stringa in un indice. E questa trasformazione non ha una logica ben precisa, per cui se li mettiamo in ordine alfabetico, poi compariranno in ordine alfabetico. Anzi, deve essere tanto più, diciamo, arbitraria possibile, e dopo definirò questa arbitrarietà in maniera matematica. Quindi l'idea è che, per esempio, Dijkstra finisce nella posizione 0, Alberto Montresor finisce nella posizione 5. Allora c'è un problema. L'insieme delle chiavi è potenzialmente infinito, oppure molto grande. L'insieme della tabella esce, non vogliamo essere che sia così grande, perché potrebbe essere che non ho abbastanza memoria per avere una posizione per qualunque coppia chiave-valore. Quindi quello che succede, anzi, succede di certo, è che possono esserci delle collisioni. Cosa significa? Significa che due chiavi potenzialmente diverse, Alberto Montresor e Cristian Consonni, finiscono indicizzate nella stessa posizione. Ok? Noi idealmente vorremmo funzioni hash senza collisioni. Vi faccio una breve introduzione su questo, però, dato di fatto, le collisioni esistono. E quindi, seconda parte della lezione, cercheremo di ragionare su come gestire le collisioni. Prima cerchiamo però di evitarle per quanto possibile. Quindi, il primo esempio che vi faccio è una tabella hash sui generis, perché è un caso iperparticolare, è il caso in cui l'insieme U è un sottoinsieme piccolo di Z+, dell'insieme dei numeri interi positivi o interi positivi con zero, eccetera. Per esempio, l'insieme dei giorni dell'anno, in un calendario, quello che ho su questo computer, possono essere numerati da 1 a 366. L'insieme dei Pokémon di canto sulle cartine, sulle carte, hanno un numerazione che vanno da 1 a 151. Quindi, se i numeri sono così bassi, non vale la pena di considerare approcci complicati. Utilizziamo una funzione hash che è l'identità. Quindi, se mi chiedo che Pokémon ci sarà alla posizione 72, utilizzerò la funzione hash per andare a vedere nella cella 72 del vettore. Quindi, scegliamo M pari a U, la dimensione della tabella hash, e ovviamente, questo è un bel esempio, ma dura poco, perché se U è molto grande, l'approccio non è praticabile. Non posso avere una tabella con tutti i possibili nomi, tutti i possibili cognomi. Se U non è così grande, ma comunque il numero di chiavi che ci registro dentro è molto minore, si spreca comunque memoria. e quindi posso pensare a fare un passo successivo e cercare di progettare funzioni hash un pochino più furbe.